Qui è stato deliberato dal comune di costruire un'eco piazzola con tre ecocompattatori, con l'accesso per tre camion e con quattro campane. Rinunciando alla raccolta porta a porta, tutti i cittadini di San Vito devono venire qua a conferire i loro rifiuti. E monta la protesta di uno dei quartieri più popolosi di Bassano, San Vito, con oltre 6.000 abitanti, dopo la delibera comunale che ha dato il via alla realizzazione di un'eco piazzola in piena area verde, in pieno centro abitato. Andando a penalizzare in maniera importante l'intero rione, il tutto nel silenzio più assoluto da parte di chi occupa il palazzo municipale, dicono. Nessuno è stato avvisato, non è stata fatta nessuna riunione, né niente. L'ultima riunione del comitato di quartiere di tutto si è parlato, tranne che di compattatori e di raccolta rifiuti, assolutamente. Cosa chiedete? Chiediamo che non venga fatta qui l'eco piazzola, semplicemente, perché non ci sembra giusto che sia insediata qui vicino alle abitazioni, e oltretutto togliendo un grosso pezzo di verde. È l'unico che abbiamo in questa zona e per il quale stiamo già combattendo da anni. Che l'area verde venga vincolata. Oltre alla richiesta del vincolo dell'area verde, hanno fatto partire una raccolta firme per dire no all'isola ecologica e... Evitare questo obrobrio, questo assassino del quartiere San Vito. Sicuramente chi ha la casa qui intorno ha una svalutazione enorme del loro bene. Questa strada è chiusa da un anno, non si capisce perché è un deposito dell'Etra. Perché? Il cittadino ha bisogno di essere rispettato, interpellato quando si fanno delle azioni di un certo peso, bisogna rispettare, sentire. Questa è la politica che deve fare. E si rivolgono a chi prossimamente si troverà a governare la città di Bassano. Io vorrei che dopo queste elezioni ci sia un sindaco che prenda per mano tutto quanto, che ci faccia rigenerare questa zona. Non si può, non si può permettere questa cosa. Insomma, chi vive a San Vito non si fermerà davanti a nulla e anche nei nostri Tg continueremo a seguirli e darvi conto della situazione.